Il partito con la fuga sulla fascia destra, l'assist, gol per Greco, che significato ha avuto per te? Per me è stata una cosa bellissima, poi è arrivata così alla fine, ci tenevo perché insomma una vittoria che è stata voluta e per me ha avuto un ottimo significato, cioè un buon significato perché mi sono un po' tirato su di morale ma non perché fossi giù, perché comunque anche io voglio contribuire a tutto quello che fa parte del Bari. Hai voluto dare un segnale a Mistra Ventura? C'è anche Antonelli. Certo, ma lui lo sa, lui mi conosce bene e so che pretende molto da me, quindi devo continuare così e devo farmi trovare sempre pronto. Antonelli si sente un giocatore di Serie A? Io più che mi sento lo voglio dimostrare, ripeto, arrivo da tanti anni, avevo avuto la possibilità di stare in Serie A tra Chievo e Messina, poi per vari vicissi due sono tornato in B, adesso ci sono tornato in Ammi, voglio dimostrare di essere un giocatore da A, ho tantissima voglia, nonostante abbia 31 anni insomma io ho voglia proprio di dare qualcosa. A gennaio si parla di possibili arrivi proprio sugli esterni di centrocampo, si fanno i nomi di cerci, cuperti, questo potrebbe portarti anche ad allontanarti da Bari? Ma personalmente no, poi dopo se la società vuole mandarmi via, le cose si vedranno a gennaio, io personalmente dentro la mia testa voglio rimanere fino alla fine del campionato, dopo tirerò le somme e vediamo quello che ho fatto. State già pensando alla prossima sfida con il Napoli? Certo, è una partita bella da giocare per la classifica, insomma un palcoscenico importante, un derby del sud, insomma una partita che se la giochiamo bene e portiamo a casa dei punti vuol dire può darci lo slancio verso l'altra classifica. Purtroppo però non vi potranno seguire i vostri tifosi, trasferta a Vietazza sarà la prima volta in questa stagione. Questo è un peccato perché i tifosi del Bari si sono dimostrati in parte attaccatissimi alla squadra, poi anche molto civili, in trasferta, hanno sempre fatto il tifo, è un peccato, però insomma non aspetta a me decidere, se no li faremo di tutti quanti.